Buongiorno 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 E non c'è nessuno In giro Perché potete vedere che Non c'è nessun giocatore avversario Niente di speciale Allora Avevo detto prima Che le missioni diciamo che erano Molto monotone Sempre le stesse Allora ragazzi su questo punto io Vorrei tornarci indietro Sino a un certo punto ragazzi Perché Sino a un certo punto si potrebbe indietro Da questo punto di vista Perché? Perché Sì Le missioni restano monotone Sapete perché? Perché voi siete molto lentamente di livello Adesso vedete che io sono a livello Mi sa Adesso lo vediamo ragazzi Fatemi scappare da qui Perché altrimenti la polizia mi inchiappetta Allora andiamo a farci un giro nelle montagne del far west ragazzi Eccoci qui ragazzi Dove? Ma dove cazzo? La gente è così Mi rompe il cazzo così dal nulla Escono puntini rossi dal nulla Motociclisti che hanno voglia di rompermi i coglioni Vabbè Sono nemici di Trevor si vede Comunque sia ragazzi Stiamo dicendo Che Vorrei riprendere in mano L'argomento della polizia Della polizia Della polizia ragazzi Delle missioni Perché? Io ho detto che sono monotone Perché ragazzi Per salire di rango in questo gioco Ci vuole veramente Ma veramente tanta pazienza ragazzi Perché? Perché ci troviamo in un gioco Che è simile a Battlefield Nel salire di livello Cioè ci mettiamo veramente tanto A salire di livello E ogni livello Cioè può riservare Cose fenomenali Come cose di me Cioè come missioni di merda ragazzi Missioni fenomenali Missioni di merda Allora Nel caso di me Che sono a livello Ragazzi Adesso lo vediamo subito Sono a livello A livello ho scritto un cazzo Andiamo qui Sono a livello 20 ragazzi Quindi Ok Allora sono a livello 20 ragazzi E pensate che io sono a livello 20 Ci ho messo Un'eternità a salire di livello Sino a livello 20 ragazzi E mi ritrovo ancora Con delle missioni del cazzo Delle missioni del cazzo Che alla fine Non mi fanno guadagnare niente ragazzi E' questo ragazzi Che crea il problema Che poi Queste missioni Che non mi fanno guadagnare niente Creano problemi Nel fatto che Voi Non riusciate a Avere molti soldi A comprarvi una casa Un parcheggio A comprarvi un sacco di cose ragazzi Che alla fine Principalmente I soldi in questo gioco Sono la cosa Più importante Allora Cosa ci vuole allora Per fare Per salire di livello Per salire velocemente di livello Per avere tutto e subito Ragazzi Vi servono degli amici Che si sono Fatti un culo così Per salire di livello Come io Ad esempio Gioco principalmente Con Crystal Perché Prima di tutto Io mi diverto tantissimo Con lui Mio fratello Bebbo Giordino Molti dei miei colleghi Che comunque sia Sono miei amici Prima di tutto E poi Sono anche Magari Sono giocatori Sono anche youtubers E ragazzi Io mi diverto molto Soprattutto loro Vedo che sono appassionati Molto più di me Di GTA 5 Online A me piace moltissimo GTA Online Però questa cazzo di musica Mi ha rotto il cazzo Quindi Sono molto più appassionati Di me ragazzi Per questo Sono saliti Molto più velocemente Di me Di livello E io Grazie a loro Soprattutto Sono riuscito A avere molti più soldi Perché Perché loro Facendo quelle missioni E sono riusciti A immagazzinare Un sacco di soldi E soprattutto Comprendosi attività E minchiate varie Hanno sbloccato Altre missioni Dove si guadagnavano Ad esempio ragazzi 25.000 15.000 30.000 Cazzate varie Quindi ragazzi Cosa avete visto Nella puntata precedente Io sono arrivato A 366.000 A 360.000 E con questi 360.000 Ragazzi Cosa abbiamo fatto Con questi 360.000 Sono riuscito A Diciamo Come dire Ragazzi Conservarmi un po' di soldi Perché? Perché mi devo comprare La casa ragazzi Quando mi comprerò La casa Potrò comprarmi Delle Delle auto Quando mi comprerò Delle auto Potrò andarmi in giro A spaccare il culo Agli altri Ovviamente ragazzi Questa cosa Dell'antisportivo Penso che Non la elimineranno Quindi ragazzi Preparatevi A A stare attenti A non farvi Non farvi Diciamo Mettere Negli Antisportivi Ragazzi Perché se vi mettono Negli Antisportivi Magari Non possiamo Giocare Insieme Questo è un Problema Che Sta creando Scompilio Nella community Di GTA Comunque Da Rockstar Perché A me Non sembra Giusto E Bloccare Per Puttana Del genere Ragazzi Anche se Ho ricevuto Una lamentera Vabbè Poco male Però Il fatto che A me Blocchino Dalla poter giocare Degli amici Magari Io per sbaglio Distruggo L'auto Di un mio amico Per sbaglio Ragazzi Posso finire Tra l'inti sportivi E fermarmi Ben due giorni Ragazzi A me Prende al cazzo Cioè Non per dire Ma Prende veramente Al cazzo Ma Molto Al cazzo Quindi Brutto Stronza Siamo Di Dai Ma E' bello Ragazzi Scusate Se giro La testa Ma Cazzo Da Cristo C'era Ero Di Merda Oh Bello Da puttana Vai zio Dai Fagli il culo Ok Ragazzi Vuoi Vuoi essere Ti schivi Questo Stronzi Stronzo Schivati Questo Schivati Questo Spam Sono un grande La puttana Eh Eh Comunque Sia Ragazzi Questa cosa Della Antisportiva A me Non è piaciuto Niente 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 Infatti Ho fatto anche un video Ragazzi Proprio questo Perché mi ha creato Veramente Tanti problemi Porca puttana Mi sta avendo Il mal di stomaco E soprattutto Mi sta girando la testa Porca puttana Dov'è cazzo Sei pezzo di merda Allora Quindi A me Eh Questa cosa Comunque sia Analizzando GTA Nel suo complesso Ragazzi Mi sembra un gioco Che comunque sia È tipo Batefi ragazzi È un bel gioco Però Poi rimane Il problema Del Della Boh Del 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 Saria di livello Ragazzi Perché è un problema Quello Io non posso Metterci anni Cioè Batefi Io l'ho mollato Batefi il 3 Ragazzi Io l'ho mollato Sapete perché? Perché Si creava un Cioè Era proprio un problema Giocare Col Col rischio Di Sbloccare Al livello successivo Una Un'arma di merda Ragazzi Quindi Se io sblocco Un'arma di merda Mi passa la voglia Di giocare Perché Vengo premiato Dopo 30 anni Ehm Boh Posso capire Magari Uno Due Cioè Posso capire Invece Il modo di Interpretare Il gioco Come può essere Call of Duty Ragazzi Call of Duty Ho 70 75 80 livelli 55 Quello che cazzo è E Ogni livello Ragazzi Sbloccate un'arma Ogni livello Sbloccate Un mirino Eh sì Un mirino Un cazzo Sbloccate le Grant Sbloccate le Claymore Sbloccate le Boss In Betty Sbloccate il C4 Sbloccate Dio Che cazzo ne so ragazzi Sbloccate chiunque Ehm Invece In Battlefield Ci metti 80 anni a serie Di livello In quelli 80 anni Poi potrebbe capitarti Che ti esce L'arma Del cazzo Che spara tre colpi Che spara un colpo E non ti piace Ci potrebbe essere Non lo so Il problema Del Che cazzo ne so Del Che ti sblocca La minchiata Che puoi guidare Non lo so Io ragazzi Ci ho giocato Veramente poco Sono arrivato A livello 34 E poi ho mollato Battlefield 3 Perché? Perché era veramente Interminabile Un cazzo di livello Ragazzi Salire dal 33 Al 34 Voleva dire Giocare un cazzo Di settimana A quel gioco E a me ragazzi Prendeva il cazzo Cioè io Dopo quel Tutto quel tempo Potevo tranquillamente Prendere Prendere Battlefield 3 Spezzarlo In mille Cioè Spacchettarlo Romperlo in mille pezzi Ragazzi Io Dopo un paio di giorni Uscito Sapete Voi Anche voi Sapete Cos'è uscito E' uscito Call of Duty Call of Duty Ovviamente E' un gioco Che è divertente Che ti premia subito Cioè che ti premia subito Ragazzi Ti premia con belle armi Non ci metti una vita Per salire di livello Ti basta un giorno E salire di 3 4 livelli 5 Quello che cazzo è Quindi ragazzi A me Alla fine Questo gioco Secondo me E' molto vario Le missioni Sono un po' Monotone Ma io vi parlo Perché Vi parlo di questo Perché io Principalmente Ho giocato E Ho giocato Al mio rango Quando ero al livello 12 Eccetera E mi trovo Sempre a rifare Sempre le stesse missioni Sempre le stesse missioni Poi ho giocato Con un altro mio amico Crystal Che spero che Gli sia stato tolto L'antisportivo Ho giocato con Crystal E con Crystal Ho avuto Missioni diverse Completamente diverse Dove la paga Era completamente diversa E quindi Mi sono divertito Maggiormente Sono stato premiato Con questi soldi Quindi Ho avuto molti più soldi Ho avuto molto più cash Big money Quello che cazzo è E sono riuscito Per riuscire Anzi A comprarmi una casa Quindi sono veramente contento Ragazzi Però Io vi consiglio A mio parere Se avete la possibilità Di giocare con dei vostri amici Che sono di rango Oltre il 50 Dove hanno missioni Da 15.000 Da 10.000 Almeno Un bel po' di soldi Ve li fate E state tranquilli Altrimenti ragazzi Se salite piano piano Vi accorgerete Presso di quello Che io intendo dire Cioè che Prenda il cazzo Giocarci a quei livelli Che veramente Ci vuole 30 anni Per salire di livello E quindi ragazzi Nel complesso Ci sono Le missioni Ci sono rapine in banca Ci sono Mettere la taglia In testa Qualche stronzo E fare i death match A squadre Fare i death match Da soli E Incontrare Nelle varie missioni Michael Trevor Franklin Ragazzi Boh A me piace È monotono Perché ve l'ho detto Perché Io rimango a questo rango Però Se vi mettete a giocare Con altra gente Vi accorgerete Che le missioni Diventano sempre più varie Sto aspettando L'aggiornamento Per vedere rapine Ragazzi Avete presente Chi ha giocato Ragazzi Mi ascoltate questo pezzo Se non volete essere spoiler Se non volete uno spoiler Quindi Tappatevi per almeno Qui secondi Se Chi conosce il gioco Chi ha finito Il gioco di GTA 5 Di GTA 5 Saprà che alla fine C'è una rapina Ragazzi E questa rapina Vorrei ritrovarla Nel GTA Online Comunque sia una rapina Del genere Sarebbe veramente L'epicità Messa in questo Cazzo di gioco E niente ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto E ovviamente Sono a forza Ancuda Non posso entrare Perché altrimenti Mi spacchettano il culo Ovviamente Sono senza Una cazzo Di macchina E che dire ragazzi Scrivetevi Commentate Mettevi un piaccio Se ovviamente Avete apprezzato il mio video Se avete opinioni Diverse dalla mia Fatemelo sapere Io sono sempre Disposto a sentire Le vostre idee A sentire i vostri pareri Io commento Ragazzi Sapete che sono sempre Il più possibile attivo Ovviamente Quando ho la possibilità Di poter toccare il mio computer Altrimenti anche dal cellulare Riesco Perlomeno A rispondere ai vostri commenti A rispondere ai vostri A qualsiasi vostra domanda Che mi ritrovo sotto il video Ehm Sono contentissimo Dei 700 iscritti E poi ovviamente Mi piacerebbe anche Giocare insieme a voi Su GTA Non so quanto sia limitata la sala Però potremmo giocare insieme Farci delle missioni Mi divertirei tantissimo Perché Purtroppo La cosa brutta È che posso giocare Solo esclusivamente Con quelli con i ragazzi Con i miei fan Con i miei iscritti Che hanno la 360 Scusatemi voi Che avete la PS3 Che avete il PC Io sono limitato Dal fatto di avere la 360 Perché Boh Mi piace troppo È una cosa che Ho da un sacco di tempo Ragazzi Ce l'ho da un sacco di anni Ragazzi Quasi 7 anni 8 No forse anche 8 anni 9 Sì 8-9 anni Quindi ragazzi Ce l'ho da un bel po' E mi sono talmente affezionato Che ovviamente Sono passato a PS2 A Xbox 360 E questo salto L'ho sentito troppo Quindi Non sono più passato A PS3 E niente ragazzi Quindi Vi ho già detto tutto Speriamo Grazie ancora Per il vostro supporto Sempre Siete sempre Vi voglio troppo bene ragazzi E mi avete veramente Superato per così tanto tempo Io sono veramente felice Di questo So che ho detto Che apprezzate tutto Il mio sforzo Ogni volta di fare un lavoro Ovviamente cade come una testa di cazzo Sto coglione Grandissimo Bravo Ma non sai alzarti Sei proprio un minchione E quindi ragazzi Sono contento sempre Che apprezzate il mio lavoro I miei lavori su Youtube Cercherò sempre di migliorare In qualche modo Anche con i vostri consigli Ragazzi Cercherò sempre di migliorare E niente ragazzi Quindi vi ho detto tutto Ci vediamo alla prossima Questo video l'ho fatto a mezzanotte E ormai siamo a mezzanotte a qualcosa Ho ricevuto un invito Sicuramente qualcuno Che vuole giocare con me E niente ragazzi Ci vediamo alla prossima Ci vediamo domenica E niente Ciao raga Ciao